Oh, sto bello lontano, non me ne ero mica accorto Qualcuno di voi c'è il vento? No Ok Io no almeno No, neanche io Però è neutro in questo momento Sì, ed è però più buono in boa Sì, è un pelino a destra Non me ne ero neanche accorto, era arrivata la boa di Bolina, praticamente Buon inizio In questi covoli ne arrivai col gen, ne cresci più Infatti io sono qua già pronto No, come ho fatto a prenderlo? Sono ora dritto No, ma credo di non avverti toccato Io vado in boa Ok Io vado subito Ok, lui non è partito Non sono partiti nessuno Io mi sono fermato prua al vento, non so perché Allora, riesci a prendermi, Vaglio? Grazie Viro? Vai dopo a lui Sì Ritorna qui così aiuti, vai su Mario Prodigo Così liberiamo Alberto Io rimango qui finché non lo copro, ok? Sì Ok, io ce l'ho Adesso rivira lui Riferirai tu? Ottimo Sì Così io vengo di là Ok, io ce l'ho Adesso È venuto un po' troppo presto Non so Mi è bloccato qua nei rifiuti di Mario Ah, scusa Non proviamo Io faccio il bordo quello là del leone Arrivo fino alla leone Perché non c'ho nulla da perdere ora Ovviamente subito mi bastona che mi ha dato Che è quello che ha fatto il bordo tutto di là? Tutto a sinistra Sono io No, c'è un giallo Ah, non lo so Che si fa? Si, si Ci si mette la cosa Sopra Ok, però stanno andando a chiuderlo Buono Dovrebbe entrare Ottimo Slammalo subito Io qui Faccio la sua le line Questo ti farà una puggiata Probabilmente Vabbè, buono Riuscita Io ti passo a poppa Se lo No, vabbè No, no, no Hai veduto Hai veduto Hai veduto Io no Avevo detto Ti passa a poppa Eh, poi mi hai detto no Fa buono Scusa Passa nada Vero, vero, vero Vero, vero Vero, vero Che io qua faccio un piccolo blocco Vecili Sì, se poi sì Ok Ok Ok, lui me lo sto portando Peccato Non ho la boba Uno che si è perso Dei loro Non ho capito perché Io cerco di entrare Mora sinistra In buono Così Vi do La pianità Io sono riuscito A scappare avanti Ok Allora Siamo Uno, due, sette, otto Quindi così Vabbè Compattiamo Compattiamo Me la porto a sinistra Sì Marca strettissimo Ok Sto coprendo Fabio Caldeo Così Modelletti liberi Cerchiamo di portarci Sulla line Così una volta Sulla line Li copriamo tutti S3 Mi prendi Ma freddo riesce a passare Vaglio Ci provo Te lo porto su Tranquilati dentro Sì Ok Aspetta Voglio fare una cosa Ottimo Le la do Le la do Le la do Ok No Me la sopprisa io Perché Aiuto Abbatti Abbatti Tommy Così me lo copro io Ok Ok No No Ah Pesa Daniela Avalio Ok L'ha presa lui Vabbè andiamo a tagliare No scusa No scusa No vabbè non ti preoccupare Oh abbiamo aperto Sì Mea culpa ho fatto Mi sono parcheggiato Pro No Ha vinto loro 1-3-4 Vincente L'altro giorno sul pc faceva o tutto avanti o tutto indietro Allora c'è un destro molto forte che sta arrivando Ok La linea proprio alta sinistra comunque la destra dovrebbe essere vantaggiata No vado in boa così comunque uno in boa ci sarà da mettere Alfredo parti parti che sei tardi E Tommy fagli il muro su di loro che non entrano Pesa La darà al sicuro Sì Ma vale questa partezza così vasta Evidentemente Devo virare Il vento che dice? Sta girando leggermente a sinistra Cioè è sempre destro Sì ma ritorna a destra Ritorna a destra adesso In questo istante Mi dimentico sempre che sono in team race Sorry è che ti devo virare in faccia Questo mi farà un pugiatone No no Quelli che ti poggiano su Il successo di grande Alfredo che l'ha evitato Lo stavo aspettando al varco L'apro in due No Eh non dovevi poggiare lì Non dovevi poggiare Ma come non dovevo poggiare lì? Non dovevi andare dritto Ce ne prendevano uno Uno se la prendeva sicura Ne prendevo due Ne prendevo Potrebbe essere avido Eh lo so ma dovevo Voglio fare una doppietta Visto che ho fatto una tripletta ieri Il livello è leggermente diverso C'è ragione E se io fossi in prodigo e caldeo farei il muro a nicotoma E se io fossi in prodigo e caldeo farei il muro a nicotoma Passa 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 Zero otto Grande Grande Bella penalità che gli hai dato Alfonso a Mario Dai che lo riesco a prendere Sei coperto da quello dietro Ok Nicolò ha toccato la boh? No no Loro Nicolò Buono 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 No No Sti qua Eh lo so infatti mirato di là Ma è tardi Che ci dobbiamo parlare Colpa mia Banks Pure la cavolo della botocco Che rovina Che rovina Eh qua Questo poggia Mi c'è la puggiatona E se l'altro Li ha virato Non è andato via Sono rimasti ammarcati l'uno con l'altro Cerca di incastrare quei tre Che ci diamo fastidio a fra di loro Io cerco di non fare entrare il secondo Allora se riusciamo a prendermi un altro Allora lui li do la pena Che vira Nooo ho sbagliato di brutto No vabbè non ci credo Che stupido Che sono Eh niente niente Che palle Usato è sbagliato Nessun problema Nessun problema Un, due, tre Nella prima volta che poi giochiamo assieme Mentre hai riuscito a prenderne uno o no? No non l'avevo visto Un po' già lì sopra No a me l'ha data Incredibile Nico Nico stramba 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 Che dopo dai il poggiatone e entri Un sacco Un'altra sonora legnata Stai tutti otto Sparala quando vuoi È già partita No è già partita Perfetto C'è più aria a destra in questo momento Ed è decisamente sinistro Io a naso partirei centrolinea al momento Ok C'è un buono in boa deciso E naturalmente Ma questo lo vedete anche voi Ancora è buona la dritta eh ragazzi Cioè nel senso che c'è più aria 15 Le ho data Velocità ragazzi 10 Buona la partenza Io viro Mi ho presi due Ok buono Io sto andando a chiudere su L'unico che non ha una venta Cerchiamo di liberare Io faccio un filo di velocità Che qua sono fermo C'ho 14 nodi Adesso è più a destra Più destra Più sinistra È un pelo sinistro Ma l'aria sta tutta dritta Rimbalza di nuovo Perfetto 08 Chi è 08? Nico Io Ok Nico Perfetto Albi non lo mollare È troppo Che fa di là Ok Se riesci a Chi è quello Aspetto Lo vedo Tommy Eh se lo schiacci un po' Al giallo tuo Non fai una cosa cattiva Ma fregatene di stare lì Derrassai Schiaccialo un po' Se ci riesci Perché quando arrivi In ley line Gli vuoi dare lo spazio Al blu Che sta là dietro Di recuperare Aspetta Ti aiuto Sul giallo Ok Ti viro Così non Ti tocca I novi di tu Ok Ok Quindi ho preso uno Tommy un po' Lo puoi scendere Ancora se vuoi Non di più Di quello Ammazzo One slam dunk Ok Porta il trovo Su a lei Io provo a dare A penalità A questi qui Appena virano Se virano Tommy Tu Velocità E fai trappola Alla boa successiva Toccato la boa Vattene Vattene Accelera 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 Vai 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 Vico Uno che libera Uno che libera Alfonso Uno che gli stramba dietro Ok No Per pochissimo Vabbè Continuiamo a coprire Su di lui Che tanto Trappola Una delle boe Non conviene Giù Tommy Perché se tu vai Da una parte Loro vanno All'altra Prenditi la boe Buona Che ti piace Di più Aria Sempre A dritta Ed è un destro Ok L'ho data Però dico Credo Non so chi è Vai Vico Ottimo Alfa Lung Vabbè Va bene Vai in copertura Così Vira Ok Bravo Cambiamoci Io ritorno Io mi tolgo Dalle vostre scatole Che ho paura Di darvi Alberto Tu rimani Su Sul Vaglio Nico Chiudi Non sono perso Vaglio Non so chi è Vaglio Vabbè Vabbè Tranquillo Vai Nico Non mollate Quello Sulla Layline Di sinistra Finché ce l'abbiamo Ultime Penultime Perfetto Trappola Se vuoi Alla Alla boa Alla boa 2 C'è lo disimpegno Vai Te lo lascio a te Appena vira Ok Perfetto Però ti stanno aspettando La trappola Sì O c'è Entrare qua dentro Perché ti stanno aspettando Non entrare Non entrate Ragazzi Oh No No Hai fatto la boa Non mi sento più Hai fatto la boa O no Ora sì Ok Sto arrivando Se vi riportate Così lunghi Ok 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 Strambo Cioè 1 2 7 8 Se è possibile L'1 2 Lo voglio Perché Non c'è possibilità Dietro Di fare capriole Mi faccio vado Allora Sì Se poi vai a tagliare Ci tengono incastrati Ci tengono incastrati Guardando giù a dritta Anche si coprono Tra di loro È perfetto Esattamente Albi Secondo me Tu ce la fai tranquillo A strambare Occhi chiusi Qua poi pure Vira Nico Vira Fottitene Vira Nico Roberto ti vengo ad aiutare E poggia subito WMG Se ci riesce a coprirlo Bene Tanto vanno a chiudere Ragazzi Pure che si prendono penalità Andate a chiudere Fottetene Buono 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 ragazzi Bravi ragazzi 1 2 3 Bella raga Tirata Ottimo Mi sa che ho capito Qual è il mio ruolo Sono ritornato Dopo 20 anni A fare la tattica Però no Siete voi bravi Ma magari Questa è opportuna Allora L'aria È un po' stesa Ovunque Io direi Un pelo a sinistra Boh è buona E Il campo È ovviamente Rovesciato C'è un destro A sinistra È come prima Comunque Io partirei Centro-destra Questo giro Cioè Se ti spingono L'unghio Fottitene Nel senso che Va bene così Attento Nico Che sei in brutta posizioni 15 secondi Ora Destro Decisamente Alla boa Ragazzi Ah Ma frega Ah Me l'ha data Anche a me Diro subito Ho Un Partenza Cici patta Qua Sì Nico Riesci a prendertelo Quello lì dietro Sì Sì E sono in copertura Io Insomma Da Mario No No Aspetta Un attimo Che stai Coperto Albi Aria ancora A destra Cercate di non andare Di non andare Scusatemi Aria ancora a sinistra Cercate di non andare A destra Alberto Che è virato Io continuo a sinistra Sì sì Nico la prossima volta è bastardata No no Ora è decisamente a destra Decisamente a destra ragazzi Io vado Pensavo che Nico andasse a seguirti Eh Ehm Che giusto Devo pulgarle indosso È virare Slammala Questo Se puoi Che è caduto Alfonso Che succede? Abbiamo perso il funso audio Ah ok Adesso Tutto bene? Un, due, tre, quattro Infine l'interno Vai, vai, vai Mica tanto Eh, tanto era peggio Dai, due li dobbiamo riuscire a prendere Tanto si stanno fermando Quindi si stanno facendo una cosa abbastanza Il vento è ancora a destra Come vedete L'aria sta guardando giù Proprio verso destra Eh, però Da lontano Nicolò Voglio prendere la boa di sinistra Guardando in giù Se fosse possibile C'è più aria Quella che prendono loro Naturalmente Perlomeno mantieni Scusa Viro subito Ok Ok Vabbè Tanto Non riusci a prendere Nordera E che cos'è? Dai che ci arriviamo forse a Nordera Sì, lascia un attimo la copertura violenta Alberto Quando hai la possibilità E fai più velocità Ora Pensa Io vado in line Sì Passare E speravo sinceramente In un sinistro Che Il lato destro Deve essere Un lato salto a 400 gradi Cerco di infilarmi Nico È un po' lontano E ora aprite via la poppa Ce l'ho Ce l'ho Ce l'ho Sì Quindi ragazzi Due che vanno Ok Aperti qua Andate in un posto In un posto dove fate L'ultimo ha strambato ora dietro Chiudilo Anche se Fermare qua Su sto gioco è impossibile Eh lo so In poppa E ne parlavamo l'altro giorno Cioè Gli devi fare Gli devi stare poi sopra Ma quello va a tagliare Comunque Se non me la ritagliela dai Nooo 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 Vienta no hanno fatto un 2-3 secondo me abbiamo sbagliato in partenza che siamo no vabbè vi siete presi un paio di penalità uno addirittura ne aveva impacchettato uno gliel'ha data quello sottovento ma l'ha presa da quello sopravento o viceversa bisogna cercare di quello che succede è che quello che arriva con lo spinnaker deve prendere una decisione secondo me se c'è uno al pin si deve andare a prendere quello al pin perché la linea con lo spinnaker che sarà? 4 secondi 3 secondi e mezzo orientativamente Alfredo dove è partire? ah no non c'è più la tattica qua me lo sto spalmando ok io non lo faccio partire qua no non so perché pure io no non mi funziona più la tastiera ecco perché non sono partita vedi che quasi bug il gioco certe volte io sono andato a sinistro 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 ok Fabio Caldi devo venire per forza e vado su di lui e ovviamente da sinistro io ho liberato Tommy non ti copre vero? non lo so però nel no è a Tommy ti copre no vabbè niente vado su di lui ok io lo continuo dritto vai tu Alger io vado a prendermi Mario dai 3 su 4 ce l'abbiamo devo cercare di prendermi il destra su guardia io quanto ora è lento Mario ora sta dando destro lo lascio andare io ok Mario torna a sinistro torna a sinistro torna a seguire ottima mossa chi è questo che mi ha virato sotto? eh no l'ho presa la valio che stupido allora vi vengo a liberare su Caldeo e quanto massacro io Mario? quando è che lo smetto di marcarlo? quando non si muove più è tipo ho perso 150 metri da voi maledetta boa perché io oh bello buono passa 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 no no basta ok maledetta boa è 2 va bene andiamo lo fermo io Fabio io lo rallento tu lo cecchini bravissimo bravo bravo sei coperto Alfredo? ok no ne ho la minima idea ma va bene così io ok vai così stiamo io giriamo la boa gliel'ho riazzeccata di nuovo giriamo questa boa qui io viro subito sì no io viro subito sì fai la trappola perché quello verrà con me verranno tutti e due con me probabilmente ok no perfetto uno l'ho preso e due l'ho preso buono 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 devo riuscire solo a vedere se riesco a lampe quando finisce il lampeggio non finisce il lampeggio se riesco a passare a questo esatto ho fatto i conti ho detto ho fatto 11 12 12 lo prendo io questo sì lo prendo io perché ho provato alfo vira vado vira vira se non mi dà ah sono i tuoi rifiuti vira vira alfo ok tolgo buono 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 ottimo gli sei passato dentro all'altro bomba ottimo ragazzi vi vieni vira 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 albi perché io vado lungo se non ho volevo dire devo fare un po' di velocità fanno trappola eh ti prendono Alberto no ok ragazzi mi hai giocato penalità uno all'altro cioè raga perché prendiamo penalità quando sappiamo che è trappola al 100% perché sono passato uguale ah ho capito vabbè la mia mentalità di non passi lo affondi vabbè io qua passo sono fermati non ha toccato la boi sono passati in brutto è giusto c'è ragione uno io cerco di chiudere io cerco di chiudere questo così tu puoi strambare sotto ok ogni volta che io stramba stramba pure tu con chi ce l'hai con me? no col destra riuscite a liberarvi da quello io sto provando sto provando a dargli i miei rifiuti per farti accelerare se strambi niente buona idea vabbè rega noi credo cioè se Alberto si tiene quei tre là dietro è finita sono in tre contro di me quindi sarà duro tenerli tutti e tre beh no tutti e tre basta che li rallenti un pochino uno non so come mi è scappato via però gli altri due io me li porto dai andiamo a tagliare andiamo a tagliare e no perché vabbè vai a tagliare così dovremmo farci aspira ok io taglio uno no due due ma non ho tagliato porca puttana ma non ci credo ma come non ha tagliato 18 avrebbe fatto 2 4 5 quindi vincente 18 ma perdiamo noi perché abbiamo l'ultimo no 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 18 18 perde il primo quindi abbiamo vinto no 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 scusa noi abbiamo 2 4 6 no non può essere 18 18 ragazzi è impossibile no c'hanno tutti una davanti a noi quindi vincente esattamente quindi sarà 19 17 no di più pure vedi Alfonso 19 17 19 Alfonso l'hai fatta benissimo non mi ha chiuso no 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 colpa mia colpa mia sono riuscito a fare l'ultima i ragazzi vogliono fare l'ultima siete d'accordo sì sì ho provato a orzare non mi era data a me sa che là io me ne sarei fregato di orzare sarei andato dritto come un treno perché tanto se tu riesci a tenere quell'ingaggio tu entri nella zona che sei non solo sotto vento ma anche interno in boa è stata volontaria non so se non so se e ora te la prendi e se andare il tuo studio e se calò maledetto e no io la dovevo dare perché la dirà io sto su Fabio ok io provo a fare una slam dunk a questo sto centro ok io poggio di trita vado ok ero già pronto a poggiare io per farti passare perché mi sarei chiuso questo qua eh ce li io tanto cioè ce l'ho io non vedo buono così per me tengo due chiusi devo andare dritto perché tanto comunque mi consola che non ci io pensavo che facevano 1,2,3,4 tutte le regate non stavano ma non so se stanno facendo pretattica come sol dirsi no dai non c'è ne hanno fatto solo 1,2,3,4 che comunque è stato abbastanza pesante ma naturalmente leggermente a sinistra boia io ne tengo due impacchettati fondamentalmente sta girando a destra ragazzi questo mi fa un poggiatone che io questo li poggio finché tu non entri se gliela riesci a seccare devo passare dietro ok io sto fermando Caldeo proprio a schifo mollagliela ti sarei dovuto passare dietro ma non ci riesco vado fai il pane salare eh figura ti stavo già l'azzo e ora che entriamo nella zona gli do pure il resto ok ottimo io me la prendo io adesso dai vai 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 vado 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 niente no scusa scusa devo andare prima vabbè nessun problema nessun problema nessun problema dove andavi reghi ti fa bene io mi ho insegnato io il gioco comunque era norderno vabbè chiunque era vado io l'attacco di nordera alfo si vediamo se esco toglierto dalle balle ok io lo seguo io giro qui e viro subito ok vengo con te ok norderno ha girato alto si però c'è un sinistro come fa è la sua come può essere la sua la boa se io sono entrati interno eh ma sei disconnesso caldeo si siamo contro contro tre vabbè dai volete che mi disconnetto io per fair play no no perché è una cosa che può succedere no dobbiamo crearci anche le occasioni in questo momento nel caso siamo in quattro contro tre dobbiamo riuscire anche a giocarcela bene no io entro e alfo me lo porta a spasso perché siamo un in più quindi vabbè che comunque caldeo stava era ultimo Tommy di frango bolla ti avaglio e non volarli un centimetro vengo a aiutarti adesso io me lo prendo su questo lato di qua tutto lo prendo su quel lato di là ciao ok l'ho data non vedo io vado via io scusa dai andiamo a tagliare io vado di qua che così non rompo le balle a Tommy non rompo le balle a Alfonso vado a rompere le balle a lui eh lo so Vaglio me lo prendo io è qua con me Vaglio ok vabbè vai a tagliare e tanto tu lo copri Vaglio tagliato però dove sono andato ok tagliamo 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 uno due tre dai buono buono ottimo ragazzi ti dico un grazie ok sì